Epigrafe per la madre dei fratelli cervi di Piero Calamandrei. Quando la sera tornavano dai campi, sette figli e otto col padre, il suo sorriso attendeva sull'uscio per annunciare che il desco era pronto. Ma quando in un unico sparo caddero in sette dinnanzi a quel muro la madre disse non vi rimprovero figli di avermi dato tanto dolore, l'avete fatto per un'idea perché mai più nel mondo altre madri debbano soffrire la stessa mia pena. Ma che ci faccio qui sulla soglia se più la sera non tornate? Il padre è forte e rincuora i nipoti, dopo un racconto ne viene un altro, ma io sono soltanto una mamma o figli cari. Vengo con voi. Chi non ricorda in Valle Sabbia la telefonista di Vestone, Sabina, così come era chiamata col nome di battaglia, le cui telefonate tempestive hanno risparmiato arresti e fucilazioni nei paesi della valle? Quante volte l'annuncio telefonico di un rastrellamento ha consentito ai partigiani che si trovavano nei pressi di defilarsi nei boschi, agli uomini di nascondersi e alle donne di sciorinare le loggia lenzuola appena lavate per avvisare dell'imminente pericolo gli ex prigionieri jugoslavi fuggiti dal campo di Vestone e i partigiani che si trovavano nei fienili sparsi sui monti? Sabina rievoca alcuni episodi di quel periodo in cui si era sicuri da che parte stare, perché si trattava di salvare degli uomini e in questo si era tutti uniti. Io l'antifascismo l'ho assorbito in casa, da quel giorno del 1925 in cui i fascisti volevano costringere mio fratello, che era un violinista, a indossare la camicia nera e a suonare durante una loro manifestazione. Al diniego inflessibile di mio fratello hanno risposto facendogli ingoiare un litro di olio di ricino e coprendolo di bastonate, lì, in casa, sotto agli occhi della mamma e di me. Quando dopo l'8 settembre si è trattato di aiutare a nascondersi degli uomini che fuggivano dai fascisti, non ho avuto un attimo di esitazione e per tutto il periodo della clandestinità sono stata dalla parte dei ribelli. Io, dal 1937, ero centralinista della Stipel, in servizio quasi sempre di notte. Intanto avevo cominciato a distare sospetto ed ero quasi sempre controllata e piantonata. Avevano portato una brandina nel mio ufficio per consentire alla guardia di sdraiarsi durante la notte, ma erano quasi sempre più di uno. Facevano anche i loro pranzetti, lì, davanti a me che tiravo la cinghia. Tutte le mattine dovevo andare in caserma a giurare che non conoscevo nessuno di quelli a cui avrebbero fatto comodo le notizie che io potevo far trapelare. Un giorno sono venuti a chiedermi informazioni circa un certo K Giovanni ricercato da loro. Io ho risposto, io sono a Vestone solo da sei anni, li conosco tutti, ma non di nome, perché qui hanno tutti un soprannome. Portatemelo qui e vi dirò se lo conosco. Così è andata Alicia. Un giorno ho ricevuto io stessa, da parte dei tedeschi, l'avviso di far arrestare la telefonista. La prima cosa che ho pensato è stata. Io devo sentirmi la coscienza a posto, anche con loro. Così, quando dopo un minuto mi ha chiamato personalmente un fascista per consigliarmi di scappare, che stavano per arrestarmi, ho risposto prontamente. E perché devo scappare se non ho fatto niente? Dopo poco sono arrivati i tedeschi e io, sbigottita e impassibile, a recitare la scena dell'innocente. Erano arrabbiati, ma si sono limitati a ordinarmi di restare immobile sotto i loro sguardi indagatori. Intanto, sulla tabella delle chiamate era un continuo accendersi di luci che rimanevano senza risposta. A un certo punto piombe in ufficio un ufficiale fascista venuto dal comando di Idro, che si mette a urlare perché il telefono non funziona. Io, calma, gli faccio osservare la mia posizione di mobilizzata. In poche parole, i tedeschi se ne sono andati e io ho ripreso il mio posto di telefonista. Un cifrario. Se sentivo dire dai fascisti che c'era qualcosa in giro, telefonavo di mandarmi un chilo di burro. Se il pericolo era maggiore, chiedevo dello zucchero. E, se poi si trattava di un rastrellamento dei tedeschi, fingevo di parlare con un innamorato. Sei cattivo! Non vieni mai a trovarmi! Una sera sono partita con Luigino per portare ai partigiani di Onodegno due zaini stracarichi. Non sapevo di che cosa. Stiamo camminando su per il monte quando mi pare di sentire dei passi pesanti dietro di noi. Sono i tedeschi, dico. Nascondiamo gli zaini e fingiamo di essere due innamorati. E baso messo! E ci siamo sdraiati sotto un cespuglio. Arrivano i tedeschi e ordinano di alzare le mani. Ubbidiamo! E mi riconoscono! Telefon! Telefon! Io recito l'imbarazzo della donna colta in fragrante e chiedo la loro comprensione e il loro riservo. Ghignano maliziosamente. Rotto l'idilio. Un rapido sguardo alla falsa carta d'identità di Luigino. E anche questa volta siamo salvi! Il mattino dopo Guido Bollani, accompagnato da due uomini del suo gruppo, giunse di buon'ora in casa Boschi. Non lo fece a mani vuote, portò della grappa e un cartoccio di zucchero. La mamma di Maria, ancora all'oscuro della morte del figlio, preparò del caffè, invitando inutilmente la figlia a prenderne un poco. Partirono quindi per Salò, dove si ricarano in una stanza attigua alla chiesa di San Bernardino, in cui, presidiata dagli uomini delle fiamme verdi, stava la bara sigillata che conteneva la salma di ferro. La data per i funerali era stata fissata per la giornata dell'8 maggio. Doveva essere una cerimonia imponente, in grado di rendere il meritato omaggio al giovane partigiano. Perciò i suoi compagni addobbarono Salò con i tricolori listati a lutto, mentre sui muri erano affissi manifesti che riportavano la seguente scritta. Cittadini, all'alba del 23 marzo scorso, in un eroico slancio di donazione supplime, faceva olocausto della sua fiera e promettente giovinezza la fiamma verde ferro, Ippolito Boschi. Il Comando Saludiano di Liberazione Nazionale toglie dall'oscurità la salma dell'intrepido patriota, alla quale intende tributare, martedì 8 corrente, alle ore 10, solenni onoranze. Ai tempi a venire gli fu tributata la medaglia d'argento alla memoria e gli vennero intitolate tre vie, a Barghe, a Rue Volciano e a Brescia. Onorificenze giuste e dovute per quel ragazzo di Barghe, ormai entrato nella leggenda della Resistenza Valsabbina. Un giorno mi è saltato in mente di dire che io a casa avevo l'inno dei lavoratori. Si è fatto subito un silenzio glaciale, del quale io non mi ero nemmeno resa conto. Dopo quel giorno il capo ufficio, che aveva partecipato alla marcia su Roma, mi dice «Verremmo a forno a rompere quel disco». Invece non sono venuti. Forse perché io ero una gran lavoratrice, stavo alla calcolatrice meccanica fino a 12-14 ore al giorno, tanto che mi sono anche ammalata e il medico mi ha consigliato di tornare al mio paese. Così ho presentato domanda come maestra e sono stata assegnata a Presigno. Nel dicembre del 43 arrivano a Presigno Tony, Flavio, Arnaldo e altri per cercare i primi nascondigli. Io non sapevo molto di loro, avevo solo avuto notizia che Tony portava i prigionieri in Svizzera. Più tardi Tony ha cominciato a chiedermi se poteva venire nella scuola ad ascoltare la radio, era l'unica che c'era nel paese. Lui cercava le stazioni da cui trasmettevano i messaggi «Sui monti cade la neve, la luna splende in cielo, è tramontata la luna». Io ero sorpresa e perplessa nel sentire quelle cose e solo più tardi ho saputo che erano i segnali per i partigiani. Ci siamo conosciuti meglio e io ho cominciato a lavorare per i partigiani. Mi mandavano in Valcamonica a prendere i soldi, le munizioni, i vari ordini. In quel periodo ho conosciuto Suor Giovanna della Poliambulanza, Gianna Pontoglio, Ragnoli, Enzo Petrini, Beppe Anessi, Don Comensoli di Darfo e altri. Venivo a Brescia in bicicletta e poi prendevo il treno per la Valcamonica. Avevo una sporta rete e ci mettevo dentro i pacchetti, poi aggiungevo una mela, una pera, mettevo il tutto sul portapacchi e mi sedevo lì in mezzo ai tedeschi. Quando mi hanno preso è stato perché uno della Valcamonica, sotto le torture dell'interrogatorio, ha detto che c'era anche la maestrina di forno, murosa di Toni, comandante delle Fiamme Verdi. Allora, durante il rasserellamento, sono venuti a prendermi e mi hanno portato a Idro. Naturalmente mi hanno chiesto di Toni, ma io ho sempre sostenuto che non avevo mai sentito quel nome. Hanno cominciato a picchiarmi. Erano in quattro. Un certo Freda di Bologna dava gli ordini e diceva «cinque minuti di massaggi» e giù bastonate sulla schiena e sulle gambe e schiaffi sulla faccia. Ma io niente. Ero come una statua e non mi scendeva neanche una lacrima. La rabbia mi dava un'energia che non avrei mai immaginato. A un certo punto mi hanno slegato le manette e io ho preso per la giacca quello che dava gli ordini. Gli ho dato alcuni scossoni e l'ho buttato contro il muro, gridando «Ma cosa le ho fatto io da trattarmi così?». Lui non se l'aspettava una reazione del genere da parte di una ragazzina e, superato il primo sbalordimento, ha ordinato di andare nella sua camera a prendere un bastone di nocciolo, che quello non si sarebbe rotto, come era successo sulla mia schiena col primo bastone. E giù ancora bastonate, fino a quando sono svenuta. Mi hanno portato nella camera dove c'erano altri prigionieri e sono rimasta completamente priva di forza per una settimana. Fra i fascisti c'era un ragazzo molto giovane che stava male a vedermi in quello stato e di nascosto, attraverso il finestrino del gabinetto, mi portava dei biscotti col Marsala. Mi diceva sottovoce che il suo papà era tra i partigiani del Piemonte e che lui si era ruolato per paura delle rappresaglie alla sua famiglia. Dopo una settimana hanno tentato ancora di estorciarmi dei nomi, minacciando punture di scopolamina e anche la fucciolazione. Ma io ero inflessibile. Dalla mia bocca non è mai uscito il nome di nessuno. Un giorno mi hanno detto che avevano deciso di fucilarmi e mi hanno mandato un cappellano che voleva confessarmi. Io, puntandogli il dito indice contro il petto, gli ho detto io non ho niente da dire a lei. Sono pronta. Non mi hanno fucilata. Mi hanno invece portata alle carceri di Brescia, reparto SS. Non voglio dilungarmi nella descrizione di come eravamo trattate, ma mentre Idro non mi era mai sceso una lacrima, né sotto le botte, né quando avevano detto che volevano fucilarmi, qui a Brescia ho cominciato a piangere. Piangevo tutto il giorno, completamente impotente davanti a quei muri e a quelle grate. Una mattina un guardiano mi viene a prendere. Io mi infagotto di maglioni, che ero riuscita a farmi mandare per ripararmi un poco d'eventuali bastonate. Invece mi trovo davanti un tedesco con l'interprete che mi dice ti portiamo a casa. In credula salgo sulla loro auto mentre mi dicono tu essere grande bandito. Mi portano realmente a vestone, poi a forno. Cosa era successo? I preti avevano concordato uno scambio tra me e alcuni operai che si sarebbero presentati alla tot. Quando sono arrivata ho visto la piazzetta piena di gente che mi aspettava per farmi commossa una grandissima festa. Hanno suonato persino le campane. Ma le mie traversie non erano finite. Ben presto si venne a sapere che il comando fascista di Idro aveva deciso di venire a prendermi. Non mi rimaneva che ricominciare l'odissia dei nascondigli. Per fortuna l'aprile del 45 era vicino.